2 sta pure mezza diventosa e c'ho proprio 24 ore ammanettati insieme Buon attenzione Welcome to My mom guys Eccoci qui in un nuovo video Sono Simone Cosa del Bagale Allora ragazzi Che cosa devo fare oggi Abbraccio Problematico Che oggi finalmente è arrivato il momento Perché voglio stare sempre con te per tutta l'amica Nio no però Allora ragazzi come potete notare Abbiamo comprato queste dal China Dal China saluto Un bacio da tutti China E abbiamo preso queste alla modera cifra di 2 euro 2 euro con i soldi di Youtube 2 euro E quindi ci dobbiamo legare quindi No ma con me No ma io non Non voglio essere legato con te Si calcola che dobbiamo stare tutto il giorno legato E dobbiamo anche andare a scuola alternanza lavoro legato Scuola Come si dice Alternanza scuola lavoro Vabbè scuola alternanza Io sbaglio sempre Allora questa è la vita raga Questa è la dimostrazione della vita Di quando uno sbuccia il coso e non ci riesce mai Sbuccia il coso Hashtag sbuccia il coso Allora siamo riusciti ad aprirlo dopo tipo 5 minuti Ok raga abbiamo preso, abbiamo aperto Ora ve lo andrò a mettere Aspetta controlla la mano Su che mano lo stai a mettere? Sulla destra quindi sulla sinistra No la destra no io ci voglio avere la sinistra Io ci voglio avere la sinistra Si si ma Oddio questa è pure mezza difettosa io c'ho paura per te Nooo Oddio le chiavi Non c'è la casa dove No si muore le chiavi Raga c'è un problema Io mi devo andare a tagliare i capelli Nooo c'è Nooo Vabbè c'è Non ce lo possiamo dire Nooo Oh mi fai un po' Non devi dire di ti spacco la parte Oh ma mi fai male Va bene raga adesso andiamo prendiamo la macchina e mi vado a tagliare i capelli No dai non posso entrare dal parrucchiere così Ah perché vuoi essere così affianca a te tutto il tempo No No raga c'è un problema cominciamo male Dobbiamo entrare in macchina qua Oddio devi tipo fare i miei stessi patti Nooo No Simo come ci andiamo di qua No Simo Ok Che ho fatto? Oddio E mo come guidiamo? No Simone non si fa Aia Guarda già tutto rosso qua No vabbè Simone Aaaaaa 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 Beh proviamo a accendere la macchina Mi stai dando davvero entro a scocchi di quella fottuta povera Oddio L'ammazzavo Non ce la fai Uuuu Ok non ce la fai Mi devi tirare il braccio No Aia dai No non puoi girare questo E' una tortura quando giri il volante Ok raga Andiamo dal parrucchiere Aaaaaa Andiamo dal parrucchiere Ok Adesso siamo andati dal parrucchiere Siamo l'attesivo Che vergogna Maia quindi entrati Buongiorno 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 E quindi adesso mi devi tagliare i capelli mentre sto legato a lui E vabbè dai proviamo Proviamo Buongiorno comunque Ciao a tutti No vedi che cagliere Oh Posso Penso tutto qua Io volo per farmi i capelli Io volo eh Questa è la prima del loro lunga serie di figuraggi E' già Dico solo che siamo arrivati in quarta casa legati Io guidavo legato a lui così Si è No Se Se Daniele riesce A farci i capelli A farmi i capelli legati così Prossimo video 24 ore parrucchieri in quad Ma no Voglio fare parrucchieri Daniel Dice dove siamo Che posto è Via di Monteverde Guadalba Comunque è passato avanti Quarta d'ora Ciao Ci ho chiuso eh Mi stai attirando Aia Hai ragazzi ho tutte le mani dorsi Dai Comunque siamo belli raga Vai Posa screen No adesso avrai il momento Posa screen Posa screen Scrinate lo stesso Comunque raga Ci vediamo appena finisce perché Aia Non tirare Aia Aia Allora raga adesso è la cosa La cosa penso peggiore perché viene andata a lavare Ole Peccato a me devo lavare io i capelli notte Ah c'è meglio Ok raga capelli fatti Abbiamo fatto Come è stata questa esperienza Carina no? Dai che capelli Spiegatevi tu Colpi finalmente Bella raga Hashtag non c'è più c'è più Hashtag niente più c'è spuglio E quindi ringraziamo Daniele che lo veniamo a ritrovare presto Yes Mi raccomando Yes Vedi tutti Com'era via Daniele? Ripeti il ponte 20 e 40 Ok Ok venitelo a trovare Ehhhh Eccoci un'altra volta ragazzi Stiamo andando a scuola Sempre ragazzi Oh Sempre ragazzi Oh 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 Stiamo andando a scuola ragazzi A scuola Al lavoro Perché noi siamo del lavoro Non mi devi tirare le manette No Schiaffo del capello Aia No Aiaia Ostras Non ti sopporto più Dai dai un bacetto Dai un bacetto No 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 E poi lo fai? No l'ambulanza No devo spassarmi Non tirarmi Ok ragazzi Siamo ovviamente arrivati Ma ci dobbiamo fare tipo un po' di metri a piedi Un po' di metri a piedi Un po' di metri Un po' di metri a piedi Non mi spingi la macchina Spingi Aia No Simone Un a No No Hashtag furbetto Quindi Oddio come facciamo uscire? No dovevo scenderti tu dallo stesso lato Io ho scenduto la mia No no ho scenduto la mia Oh prima sei entrato Madonna sei che pia all'albero Ah raga Ho lasciato il coso stava pia all'albero No aspetta devo piantere Ok piano Aia C'ho il freno a mano in mezzo Quindi ragazzi manca oggi Scuola bb Ciocchiali Ah su quelli che mi ha regalato Elisa Oh saluta Elisa Saluta Elisa Bella ragazzi vediamo fra un po' No no Dove vuoi andare? No vieni dal lato mio Che infame Aia Guarda tutto il segno Ok siamo arrivati all'alternanza scuola Ora morti Appena Ecco Martina Aia Fai piano Siamo regati Nooo Adoro Bacchiatori Ok Ehi Simo Andiamo a trovare quelli della tua classe Quelli che ti vogliono bene Buongiorno family Buongiorno Buongiorno Vi piacciamo? Dai raga ma perché state legati? Stavo a fare un video 24 ore legati L'avete fatto raga Raga è così va Siamo legati e stiamo per provare una cosa fighissima Ecco Guardate eh Adesso questo coso prenderà la forma Della manetta Ha diventato giallo? Aspettate Vai Guardate 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 Non si darà un cacchio Però questa è la nuova foto Simosi Per il profilo Quindi seguiteci su Instagram SimosiOfficial Va bene Andiamo via Simone Troppe ore di alternanza scuola lavoro Ok raga Dopo ore e ore di macchina Siamo arrivati a casa Stiamo ancora Albi 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 Ma tu sai di montagna Oh Io fermi Vada Io fermi Aspetta che abbiamo Ma che sta fai Siamo 24 delegati Questa mattina Stiamo si stiamo andando a far rucchiere la scuola Siamo andando a far rucchiere la scuola Siamo andando a far rucchiere la scuola Guardate come è concentrato Oh dai C'è pure il letto da uomini e donne Ah Dovevo dormire No Simone Leva scarpine No Simone Leva scarpine Dai Simone Metti a guardare la televisione Noi dovevo dormire al lato sinistro Noi Ah problemi Vabbè rega Eh Tieni ti fa meno il cuore Ma stai la mano Che devi andare là Non riesco a dormire in pace Buona notte Che volete mangiare eh Pasta sfera Non lo fanno i capelli Comunque sono con un cappotto dentro casa Perchè non lo so Quindi ok Accendiamolo Volee Hashtag boss siciliano Boss siciliano Ehi Piccoli youtuber E' pronto Venite a mangiare No te niente è stupido Dai Varsate è pronto Dai 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 che c'ho fame su Ah no Simone su Ciao ci vediamo a tavola Aspettaci Alpi Sì No dovevi andranno Simone Voi andranno al bagno Alluminare No un'altra volta Dai Dai Basta questa cosa Ma che c'è No Le chiavi No raga Dai Simone Oh mio dio No Simone No Simone Dai Simone non è possibile No Scusa Dio No come si è io Vabbè senti io c'ho fame Non mi frega niente Le chiavi vostre io ti voglio andranno a mangiare Ragazzi è arrivato il momento di mangiare Ma io dove dormo se voi dormite qua Scusa No tu dormiti là Ma tu pufi sul divano Eh sì Dai Abbi Boss divano No 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 Voi non l'avete capito Dai bella Voi non l'avete capito Voi non potete dormire qua Dai boss Dai boss Dai boss No No boss Ah 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 Che cacchio mi fa Così Ah Cioè dopo tutta una giornata Ho guidato in mezzo al traffico Da Roma fino a Ostia Da qua giù le ho ritorno Cioè Avete perso Avete perso Avete perso Uuuu Matacchione Uuuu Matacchione Come ricordiamo poi che non abbiamo le piano Oh matto Non mi tirate no Uuuu Mati Vai ragazzi Vai Vai Guardate raga Pure io sono tutto distrutto però Dai Facciamo le chiavi Facciamo 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 Ma non c'è tipo Qui questa No raga No raga No raga No Ma tu stai scherzando No Ma tu stai scherzando Come hai fatto Fallo Levami queste cose immediatamente Guarda C'è questo Abbossa ma che sto a dire E' questo No L'hai incastrato Godo 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 l'hai buttata Adesso non si leva più Quanto devo godere Quanto devo godere Quanto devo godere Siamo Vinst subito S Hadì In questo video E' tutto Arriva Batti 15 Simò Arriviamo a 4000 like per un al prossimo video in compagnia di boss di cazzuolo di yayao di francesca la princesa tu che trappi senti che è scesa la princesa la princesa allora raga un saluto speciale al cannonizzo che sta fumando un pizza sta fumando cookies yeah sponzionizza il pregozio si dai gattieri eschere beach cookies bella raga wow